Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi siamo su The Isle, ragazzi questo gioco non lo portavo da anni credo, se ricordo bene, oggi è stato rilasciato il nuovo update 6, update 6, in cui hanno aggiunto le meccaniche del gore e altre robe, praticamente questa qui è la versione Envrima, ovvero che è una rework di Legacy, che è il gioco che trovate su Steam. Non ci sono tutti i dinosauri, ce ne sono solo alcuni, ma ci sono anche delle nuove meccaniche, vediamo se riesco a lanciarmi in qualche server, EU2, vediamo, forse, non lo so, vediamo se ce la faccio, no, sono riuscito ad entrare credo, EU5, e ovviamente andremo a giocare il Carnotauro, perché voglio sfruttare al meglio le nuove robe. Allora, come vedete, Carnivori e Erbivori, se noi andiamo nei Carnivori, abbiamo il Carnotauro, il Deinosuco, che è il mega coccodrillone, l'Omni Raptor, che in teoria è l'Utaraptor, e l'Optero, l'Optero è palloso, il Deinosuco ci vuole troppo a crescerlo, e l'Utaraptor non è male, però non lo so. Ma sì, ma noi giochiamo al Carnot, a noi che ce ne frega. Ah, sì, hanno aggiunto, vabbè, non in questo update, ma nello scorso, hanno aggiunto la possibilità di andare a modificare la skin del tuo Dinosauro. Center, perché di solito c'è più gente in center, quindi andiamo in center, sperando che non mi muoia tutto, che non dovrebbe succedere, però. Wow, ok, allora, è notte fonda, come al solito, io quando gioco a sto gioco entro nei server ed è sempre notte fonda, è una roba veramente assurda. No, 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 ecco, mi ha attaccato un Raptor, no, lasciami schifoso, wow, 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 ok, porca miseria, io non vedo nulla, ragazzi, non vedo niente, sto venendo in seguito dai Raptor. Aiuto, 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 ok, ok, aspetta, 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 continua a scappare, scappa, scappa, no, mi hanno preso, no, mi hanno ucciso, perfetto. Ok, ragazzi, allora, eccoci con il Raptor, eh, però, mo, buona fortuna a capire dove devo andare, è notte fonda, oh, io quanto lo odio sto gioco. Eh, ogni volta che entri in un server deve essere notte. Allora, ragazzi, eccoci tornati e, come vedete qua, c'è un bel coccodrillone. Ciao, zio. Wow, wow. Facciamo, no, no, basta, basta, non diamogli più fastidio. Ehm, bella, raga, abbiamo già incontrato dei coccodrilli. Mamma mia, che colori accesi che ha sto qui, oh. Vabbè, lasciamo, lasciamo chillare i coccodrilli, ma non diamogli fastidio. Facciamoci un pastino così al volo, non si rifiuta mai il cibo, no? E ancora, l'audio che si bagga, basta, per favore. Oh, là. Sto registrando nel mentre, sì. Per gentil cortesia, eh, la madonna che laggata. Eh, la madonna, cos'è successo? Eh, che cazzo? Cos'è, sono le nuvole che fanno laggare così tanto. Ma io ti ho detto di mettermi quelle statiche a due. Eh, esatto, lasciami queste qua. Non mi mettere quelle volumetriche. E mi mette le volumetri. Ma basta, cioè, ma... Ragazzi, io ci sto perdendo veramente la testa con sto gioco. C'è una gallina. Una gallina! L'ho presa, easy. Ragazzi, devo smetterla di scrivere in chat, perché poi scrivo in chat ma mi dimentico di fare il commentary. Ma vabbè, lasciamo stare. Però che palle, sempre notte deve essere, oh! Guardali, coccodrilli, schifosi luridi. Ah, ragazzi, io non mi ricordo molto bene come si gioca, ma ho detto onestamente, quindi non andrò a dargli fastidio. Ecco, esatto. Porca miseria! Ok, no, no, basta, basta scherzare col fuoco che poi ci bruciamo. Ovvero, perdiamo il nostro dinosauro. Quindi, leviamoci da qua il prima possibile. Ragazzi, miracolo! Sta arrivando la mattina. Io non ci posso credere. Miracolo veramente. Finalmente si vedrà qualcosa. E il video non sarà più al buio. Ragazzi, vedere il gioco a più di 60 fps per me è veramente una roba bellissima. Contate che ero abituato ai 15-16 di solito, perché... A parte che il gioco è comunque ottimizzato come lo schifo. Ah, sì, e inoltre, la mappa, questa mappa qui, che dovrebbe cambiare tra un po', Tra un bel po', in realtà, tra un paio di update. Non è neanche tutta. Cioè, noi quando entriamo nel server, non ci carica la mappa che stiamo giocando noi. Cioè, la porzione di mappa che stiamo giocando noi. Ma la carica tutta. Anche se tipo 75% della mappa non è giocabile. Perché? Perché ci sono i muri invisibili e robe varie. Eccolo, eccolo! Dai, raga, proviamo ad attaccarlo! Ho sbagliato. Come funziona? Devo... Perfetto. Ma perché non funziona, ragazzi? Aspetta un attimo, cioè, devo... Lo fare... Ok. Aia, fanno malissimo. Ma devo tenere premuto? Non ho neanche capito. Perfetto. Non ho più stamina. Guardate quanta vita mi togliono. Mi tolgono. Togliono. Sì, suppongo devo tenere premuto. Perché sennò non va. Aia, sto per morire! Aia! Come cavolo? Sono a uno di vita, ragazzi. Come cazzo? Ragazzi, guardate quanta vita ho! 3%! Com'è possibile? Cioè, e mi ha tolto tutta sta vita un maiale. Oh, ragazzi, abbiamo dei carno che stanno provando a... Oh, 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 oh. Ok. Eh, io non sono nelle posizioni ottimali di combattere. Ma vabbè che un Uta contro un carno non ha nessuna possibilità. A meno che il carno non è un... Oh, oh. Non salire, oh. Cioè, per quanto mi ricordo, un hit lo posso prendere, poi muoio. Cioè... Che ha senso in realtà. Eh, però ho capito. È un po' sbilanciato. È un po' sbilanciato perché non abbiamo niente sulla Terra che può combattere contro un carno, se non un altro carno. Cioè, non abbiamo, che ne so... Sapete che... Tipo un Alberto Zauro o qualcosa del genere. Nel prossimo update aggiungeranno i Trodon. Wow! I Trodon, ragazzi, che non verranno assolutamente divorati da tutto e verranno abbandonati dopo due settimane di gioco. No, mamma... Trodon. Che non... Sono un dinosauro che manco esiste più. Attenzione, il carno che prova a combattere contro... Oh, ha preso dei bei hit. Wow! Oh, oh. Attenzione, attenzione, attenzione. Eh, mi sa che qui... Ok, c'è quel carno lì che è stato preso. Attenzione, viene inseguito! Eh, raga. Aia. Eh, il carno le stanno prendendo qui, eh. No, guarda lì! Coccodrilli contro carno. E sta tornando sera nel mentre. Mamma mia, i coccodrilli stanno prendendo hit, eh. Però anche i carno. Però sono... Quanti carno ci sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, credo. Cinque carno e due coccodrilli. Aia, attenzione, il carno va per l'hit. E l'optero, optero, vedi, di non romperci, per favore. Aia, aia, aia. Eh, raga, i coccodrilli non li vedo bene, eh. Anche se hanno tanta vita, però... Stiamo attenti, attenzione. Ah no, invece no, ce ne sono ancora. Oh, un carno è stato preso! Si libera! Attenzione, fa tante hit! E il carno muore. È morto un carno. Vabbè, andiamo dall'altra parte, comunque, perché... Bene, ragazzi, allora... Devo dire la verità... Non mi è piaciuto. Cioè... Purtroppo, come molti update di questo gioco non portano niente di nuovo se non delle meccaniche inutili e che non cambiano sostanzialmente niente. Purtroppo mi dispiace perché è un gioco molto bello e che ha molto potenziale. Però, a meno... Cioè, ci ritorneremo ogni volta che fanno un nuovo update. Ovvero, ogni 3-4 mesi. La mia esperienza è stata molto negativa. Più che altro perché... Non... È noioso il gioco. Cioè... Tutte le cose che lo renderebbero divertente, ovvero combattere... Cacciare... Non... Non... Cioè, non sono cose nuove. Sono nel gioco da più di due anni e onestamente io mi sono anche un po' rotto. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Questo video potrebbe essere un po' noioso, effettivamente, perché non è successo niente e... Più che altro, anche perché non ho trovato niente. Ma vabbè, lasciamo stare. Magari ci farò un secondo video quando uscirà il nuovo update, il 6.5, che porterà il Trodon. Vabbè, ci giocheremo, tranquilli. Ragazzi, io vi ricordo di lasciare like, iscrivervi e condividere per aiutare il canale a crescere. E detto questo, ci mettiamo in un prossimo video. Ciao, ciao!